Non si arrendono gli ambientalisti ed esprimono il loro dissenso nei confronti della nuova pista da Bob con una lunga camminata da Socol fino al cantiere di Ronco, dove gli operai al lavoro si dicono peraltro certi del successo del cantiere nei tempi previsti. Queste le ragioni per cui protestano. Per l'ignoranza politica che insiste a realizzare un'opera assurda che rischia anche fra l'altro di non venire pronta per il termine giusto. Io sono qui perché sono un giovane cittadino ampezzano, vivo qui, spero di poter vivere qui nel mio paese per il resto della mia vita. Il punto è che la pista da Bob, ma non solo quella, perché la pista da Bob è solo il simbolo di una tendenza, una tendenza che porta a trasformare il nostro paese, come tanti altri paesi di montagna, in dei villaggi turistici lussuosi ma impossibili da vivere per noi residenti. Manifestare per cosa? Manifestare contro una pista di Bob, contro investimenti che sono assurdi, che anzi castigheranno i nostri figli e nipoti, una cementificazione veramente assurda. Manifestare contro l'autoritarismo della politica odierna che non fa delle decisioni, non prende decisioni a favore della popolazione residente. Manifestare perché non sono d'accordo, non sono d'accordo nel come stanno venendo investite le risorse pubbliche, che sono anche nostre, e credo ancora che possiamo scendere e manifestare ciò con cui non siamo d'accordo. I manifestanti, riunitisi sotto l'eggide del coordinamento ambientalisti dell'Alto Bellunese, anche in questa circostanza erano sì determinati, ma non tantissimi, e nuovamente più da fuori che ampezzani. Chiara la loro battaglia contro ogni cementificazione. comprese le preoccupazioni per quanto accade anche nel centro cittadino, dove viene denunciata la prospettiva di chiusura di ben 12 alberghi, in un momento in cui a Cortina c'è semmai penuria di camere. Vedi la difficoltà da parte della Prefettura nel trovare quelle per le forze dell'ordine, che garantiranno la sicurezza in occasione delle Olimpiadi. Alberghi i cui proprietari vorrebbero cambiare la destinazione, trasformandoli in condomini, come già accaduto in passato, a strutture alberghiere utilizzate per le Olimpiadi del 1956.